Il concerto di oggi è dell'83, quindi siamo un po' avanti con gli anni, ma vi assicuro mantiene la stessa autenticità e soprattutto la stessa carica degli anni 60 di questo grandissimo e importante gruppo, questo storico gruppo inglese. Dal Marquis di Londra, 1983, i 10 years after. Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! 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 non 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 Sì, adesso vabbiamo a que un po' di più di sulla vai. Oh, yeah. No, no 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 no. No, no 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 no. Grazie a tutti. 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 Yeah. 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 Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Grazie a tutti 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 No Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti No Grazie a tutti